Live Social Live Social Live Social Live Social Live Social Live Social anni più un anno di postuma assicurativa mamma mia allora Davide, quello che ti stavo dicendo le curiosità perché tante volte quando si parla di questo argomento io, sia chi è in affitto chi ha la casa, si spaventa perché usa questo teoreo, oddio, la prima cosa che mi viene in mente parlando di questo argomento è devo sgombrare tutto, devo smantellare tutto quanto, lo voglio fare ma non c'è il tempo materiale per fare tutto, come puoi andare incontro invece a questo problema noi invece di smantellare tutto con magari gru ruspe, fare comunque occupare spazi noi siamo molto meno ingombranti vale a dire che interveniamo direttamente da sotto nel box, quindi non sei così tanto invasivo no, no, niente, abbiamo i nostri teli, copriamo tutto non sporchiamo niente abbiamo il nostro macchinario Davide l'annuncio lo facciamo a tutti gli amici che hanno infiltrazioni che hanno problemi di umidità più o meno grandi a chi altro ci rivolgiamo in generale in generale chi ha umidità in casa chi ha infiltrazioni nei box praticamente a tutti tutti voi perché non c'è non c'è la possibilità che nessuno di voi perché altrimenti è solo casa mia non è possibile io vi ricordo i supereroi dell'impermeabilizzazione quindi mi raccomando Davide Viscardi è la ditta di Vis esatto io ti ringrazio per essere stato nostro ospite in questa serata grazie a voi per l'ospitalità ovviamente lo sconto del 50% per quanto mi riguarda sul prossimo lavoro che farai ma questo credo sia automatico è partito tra l'altro da tua spontanea volontà esatto Davide ti chiedi invece al di fuori del tutto visto che siamo in onda sia in radio se vuoi salutare qualcuno in particolare saluto tutti i nostri clienti che hanno lavorato con noi e lo fanno tuttora e anche magari i prossimi che vorranno provare la nostra ditta mi raccomando dite oh Davide io ti ho ascoltato sulle frequenze di Radio Lombardia magari facciamo uno sconto dai togli magari la rifacciamo facciamo uno sconto facciamo uno sconto grazie a te davide perfetto grazie mille per essere stato in nostra compagnia live social ciao ciao ciao